Si tratta di circa 6 kg di funghi fatti ieri pomeriggio 1,7-1,8 kg e stamani mattina la differenza tra io e 900 e qualcosa Bruna. Bruna però ha fatto il più bello che è quello nel centro, ora giro piano piano, ora evidenzio, comunque sono tutti i funghi veramente belli, quello che è nel centro che è un moro fatto da Bruna indubbiamente è il più bello, nel posto indicato la faggettina sopra a casa che gli ho indicato io e che lei volta a volta che sorti ci va a fare una giratina ce ne ha trovati due, questo è il più bello di tutti, vediamolo da vicino. 6 etti e 40 grammi, 640 grammi o se volete chili 0,640. Continuiamo a girare, poi ora le devo un po' selezionare perché 5 kg le vuole furio. non mi ha telefonato e alla cucina dice che c'era ancora una chilata e qualcosa, c'è dove si mettono. a chiusura di stagione, si sta facendo funghi più belli di tutta la stagione, oggi 26-27. complimenti, 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 eh si è merita.